Ben trovati in aggiornamento con la tendenza media-lunga scadenza. Verso metà mese le perturbazioni atlantiche avranno voce grossa sull'Europa centrale. Guardate come un'ampia zona di bassa pressione e depressionaria si instaurerà proprio tra le isole britanniche. La Scandinavia potrebbe interessare anche parte delle nostre regioni. Come? Inviando degli impulsi di aria più fredda artica verso le nostre regioni. In particolar modo guardate l'area alpina ma non solo anche il centro-sud e qualche piovasco non mancherebbe soprattutto sulla parte tirrenica e dorsale appenninica. Un po' meno coinvolto il nord e comunque qualche pioggia dovrebbe bagnare anche le nostre regioni settentrionali. Quindi insomma verso metà mese meno alta pressione e guardate come le zone di bassa pressione avranno vita facile sull'Europa centrale. Vedremo gli ulteriori aggiornamenti intanto seguiteci sull'app di Trebi Meteo oppure sul nostro sito web.